Vai in radio e in tv, pure sopra Facebook, il Ciardatano è... Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per essere con noi anche oggi a quest'annesima puntata del Ciardatano. Vi ricordo i numeri telefonici che potete chiamare per intervenire in diretta con noi, che uno è 080-501-4668, l'altro è 370-301-5353 per i messaggi Whatsapp, per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, pazienza. Oggi al Ciardatano si parlerà di... Si parlerà di un gruppo che ha fatto storia qui a Bari, io poi tu pensa che... Siamo partiti alla grande, hai visto, con Paolo iperesaltato, tu emozionato, Molto, perché io sono nato con loro artisticamente, sia io che i miei fratelli, perché loro hanno inciso nel 78, se non erro, il 77, il loro primo album, che è La Bella Campanile, e io con i miei fratelli siamo cresciuti con la loro musica, quindi con la loro arte. Signore e signori, l'anonima GR! Al complice! Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Pinuzio Sinissi e Nicola Traversa. Come state? Sembra voi pochi! Però non siamo musicisti in realtà, tu sei vissuto con le nostre canzoni, però siamo attori, e musicisti solo loro due. Loro due, però tutti nella voce... A Pinuzio c'è una band, ho abbassato con un paio di toni, sai? Invece non sono un cantante, so fa tre. Io so che tu nasci come cantante di una band, anni 60, no? Yes, I do. Eh? Yes, I do. Yes, ah, yes, I do. Pensavo in una parla di lettano. No, perché ho posto il nome della band. Invece è erudito il canfora. Come si chiamava il gruppo, Pinu? Lo faccio dire da lui perché lui ha una pronuncia in me, se è più perfetta. Allora, quest'anno, il 22 giugno, ricade il cinquantesimo anniversario del debutto dei The Ragged Fellows. Quindi stavate voi due insieme? C'era Dante, c'era... Ah, che dico di tu. Si smontava la macella quando... Purtroppo c'è qualcuno che comunque... Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Che non c'è più. C'è una telefonata, già. Vediamo chi è. Pronto? Eh, pronto, ciao, sono Mimmo. Ciao Mimmo, da dove chiami? Non potevo mancare, visto che una volta Tiziana su Facebook mi ha definito lo storico della Noi Magierre. Non so se ti ricordi, Tiziana. Dimmi il tuo cognome. Mimmo chi? Menzionai frati del tipo il cece buono, il cece bello. Ah, sì, sì, questi ricordi pazzeschi. Vado a portare una certa Lucrezia e... Oh, sì, sì, è vero. Mi ricordo, mi ricordo. Mimmo chi? Come ti chiama, Mimmo? Non potevo, ovviamente, mancare all'appuntamento. Un abbraccio a tutti. Grazie. Bravo Mimmo. Mi raccomando, sempre in gamba. Gli anni non passano mai per voi. Noi stiamo cercando di fare in modo. È vero. Ci manterremo sulla gamba. Grazie Mimmo. Allora, come e quando nasce l'Anonima GR? L'Anonima GR nasce nel 74. Da... Cioè, quando sono nato io, praticamente. Tu sei il 74. 26 marzo del 74. Il 26 marzo del 74. No. Cominazione. Noi avevamo avuto tutto un percorso, come si dice. Indizione. Prima musicale, teatrale. Diciamo che io ero innamorato del teatro, colui che voleva fare l'attore. Eh. E poi, quindi, una volta che abbiamo tirato su questo gruppo musicale, facevamo queste cose qua, facevamo sperimentazioni. Sì, infatti. Andavamo nelle spiagge di notte, accendavamo il registratore, improvvisavamo, facevamo cose... Registratore geloso, a batteria. Poi andavano nei cimiteri, la notte pure. Poi facevamo, sì, a sentire il respiro dei morti, perché c'ha un ritmo... E poi facevamo tante altre cose, come ricerche, andavamo in casa a Barivecchia, a bussare. Signora, vogliamo registrare qualche canzone? Ma fa un gol! Qualcuno diceva sì, no? Perché c'è uno... E io conservavo delle bobine, che per fortuna le ho riportate su DVD, perché mentre giravano... Eh, in mano, squaggiava. Sì, si frantumavano. E quindi nel 74 debuttammo in questa discoteca, che si chiamava Il Quadrato. Qui a Bari. A Bari, che è sotto all'Hotel Moderno. Sì, via Crisanzo. Che all'epoca non era discoteca, perché le discoteche... La prima discoteca a Bari era il Locum, a Poggio Franco, che fu la prima discoteca. C'era ancora i gruppi che suonavano per far ballare. Che la discoteca è stato un guaio per i gruppi, perché tanti hanno perso il lavoro. E' vero, ma io so addirittura che all'epoca molte band... Ah, vedi? Cioè, quella che bella foto. Quelli che eravamo, quelli che siamo. Che anno era? Ma io sembro adattato. Ma quella non è vecchissimissima, però comunque è vecchia. Stiamo parlando comunque del... No, no, è vecchia. È più vecchia di questa. È più giovane di questa. È più giovane di questa, sì. Torna indietro un po' con la foto che ho mandato prima. Quello mi sa che lo spettacolo... No, sta andando avanti alla... Ah, ma quanti ne avete? Io si stavo dicendo... Sì, tu considera che... Diciamo che noi abbiamo shippato tutte queste foto dalle vostre pagine Facebook. Eh beh, sì. Dai profili. Perché purtroppo su Google ci sono pochissime cose. Specialmente dell'album. Ah, ma vabbè. E c'è? Hai trovato qualcosa dell'album? Dell'album? Magari qualcun altro doveva darti da fare. No? Eh, io sai. Io comunque, visto che stiamo qua, volevo farvi cantare dal vivo. Accidenti. Acciderba. Delle canzoni. C'è un messaggio. Sentiamo prima il messaggio Whatsapp. Prego. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono il fratello di Renato. Ah, mio fratello. Un abbraccio di voi. E qua abbiamo anche la sua... Volevo ricordare una cosa all'anonima. Ma voi sapevate che Totto Cotugno vi ha copiato la canzone di Nanuccio? Non so se ve la ricordate. Vabbè, la canzone è vostra, sì. Ma la canzone è sua, è quella che fa... Voglio andare a vivere in campagna. Ah... Ok, questo quello fa. E ovviamente quella di Nanuccio fa. Nanuccio. C'è ragione. Ciao, un abbraccio. Allora, ma andiamo immediatamente a me. È vero. Sì, perché quella fa... Voglio andare a vivere in campagna. C'è una telefonata, pronto? È caduto. È caduto. E che cosa vogliamo fare in giro? Facciamo Nanuccio. Nanuccio? Dai, Nicola. Cattiamo Nanuccio. A te il compito chitarristico. Quindi noi poi tentiamo di fare i cori? È certo. A minute, purtroppo. È certo. No, Dante, ti stai invitando a prendere la chitata. C'è una telefonata, vado a giocare, sì. Pronto? Renato? Ciao. La mamma che ti dice hai mangiato la mela. È Michelina Renato D'Abitonto. Michelina D'Abitonto. Ciao Michelina. Ma è che lei? Dimmi tutto, Michelina. Ma è affatto la rassata? Pasqua. Quando è della Pasqua? Pasqua. È passata. Mi piace che fa Pasqua. Sono io, scimmiota. È un nome che ho... Pasqua in catena. Un personaggio, sì. No, pensavo stesse parlando di Pasqua. È molto emozionata Michelina, sta ridendo tantissimo. Com'è? Che cosa? Sta ridendo. Quando passiamo Pasqua e Natale. Eh, eh. No, là siamo belli quando facciamo Pasqua e Natale. Senti questa canzone. Senti questa canzone. Senti questa canzone. Questa è seria. Ma la facciamo proprio tutta. Proprio... No, vabbè. No, no, penso, penso. Se no poi... Io volevo fare tutto l'album. La gente è scia, ma chiaro. Vabbè, tu devi fare... Eh, sì, la parte tua. Eh, dai. Non ho provato. Vado a crudo. Vai. A crudo, vai. Ci possiamo inserire anche io e Pinuccio? No, vi do vede. Se ci va. Se ci va. Ah, il Renato, Renato. Perché tanto la sa. Vai, vai. No, no, parti, parti. Ah, vado io. Sì, la parte tua. Sì, va bene, scegli a basso, purta, la nucia, sotto agli acque, sotto a vinte, sotto sole, da buste, senza casa, senza amore, sulla, 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 na nucia. Pou nati mentre esteve estrellat, na nucia, canna mare essa nevnar i coneta, na nucia, na guanyar. Pou nati mentre esteve estrellat, na nucia, canna mare essa nevnar i coneta, na nucia, canna mare essa nevnar i coneta, na nucia. Pou nati mentre esteve estrellat. Sono cresciuto. Ottimo controcanto. Perché il nome Anonima GR, Pinu? Perché non sapevamo come chiamarci, eravamo lì seduti in un salotto, fric, fric, quattro cash, quattro mazzi nelle ore. Stavamo pensando, come ci dobbiamo chiamare, perché Cosimo Cinelli ci aveva chiamato, la Beda Cabagnini, il primo nome della nostra, e poi decidemmo all'unisolo, perché noi non sappiamo come chiamarci, allora Anonima, però bisogna metterci qualcosa di speciale accanto. GR come gruppo di ricerca teatrale. Tu pensa che... Sì, guarda. Ma quella sta foto. Questa è... E' lì, si è un po' per ricerca. Come è rimasto, Dante. Vabbè, come è rimasto, è rimasto. Per la prima volta, questo è il 77, per la prima volta il teatro entra in un castello, cioè noi portammo per la prima volta dal teatro, fuori dal teatro, uno spettacolo. Quello è il trono di Federico II di Sveria, e io ho avuto la fortuna di fare il principe bastardo che si sedeva su quel trono là. C'è una telefonata, pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, bello. Ciao, bello. Non lo vuole dire. Sono Alan. Alan, con il marito di Ellen, che io sono sempre Alan, il fratello di Sorrenti. Ho capito, senza fantasia. Vabbè, ci ha chiamato ieri e ci chiamano oggi. Ma guarda che reperto che era quello. Si, vedi? Quello, diciamo, ci parto dalla pagina tua. Si, si, si. Eh si, ce l'ho io. Però io su internet, anzi no, due anni fa a Firenze, ho incontrato Lucia Poli. Ah, grande amica. Che mi ha detto, quindi tu sei di Bari, si, sei di Bari, l'anonima GR che fine ha fatto? E poi mi ha detto, no, perché mio fratello, che mi ricorda ogni tanto dell'anonima GR, aveva una simpatia per Duccio. Sì. Lucia Cegli. Che salutiamo, salutiamo sia Duccio che Carla che Nole. Paolo Poli aveva una simpatia per me. Sì, simpatia così, però simpatia più particolare per me. Perché lei, come donna, piace molto alle donne, cosa rara, perché tra donne... Sei un po' come Raffaella Carrara. Ma piace molto ai gay. Sì, è vero. Vabbè, pure io, mi piaccio sia alle donne che a me non voglio nessuno. Ehi, vabbè. No, no, quello di un gay che apprezza le donne, no? No, no, ma infatti... Io piacciono. No, tu, a te lo piacciono, lo piacciono. Quando si sente sto rumori? Ehi, il messaggio Whatsapp che stiamo per ascoltare. Sentiamo. A te lo piacciono. Correva l'anno 1992 e su Telebari andava in onda il Festival di San Romolo, con le hit tra le più famose, tra cui Rosette Fascio e Jeb tu sa... E continuava. Oppure anche... Butta la chiave, non la buttare, butta la chiave, non la buttare, butta la chiave del Porto. Fantastica, anonima GR. Saluti da Adriano da Milano. Ehi, ciao Adriano. No, qua ci servono da tutta Italia, ma anche dall'estero. Ah. Vi ricordate che sta qua? Apri il portone. A proposito di Butta la chiave. Butta la chiave allora. Ma è l'originale della canzone? Sì. Ah. Butta la chiave, ma poi sarà la chiave. Questo era Peter Van Wood. Ah, Peter Van Wood. Perché, vabbè, è stato quello che l'ha scritta quella canzone. Assolutamente. Ma che freddo. Lui faceva parte del trio, lui Carosone e Jeje è batterista. Il quartet, dice. Van Wood Quartet. Qua, eh sì, il gruppo che è avuto lui. Sì. Sì. Vi ricordate il primo debutto del vostro spettacolo? L'abbiamo detto. Al quadrato. Al quadrato. Al quadrato. Al quadrato. Poi lo portammo a Roma. Ma Uador è già dopo l'anno. È successivo. È successivo. Ah. Il primo spettacolo fu la bedda che un bagnino. La bedda che un bagnino. Che noi dopo due anni, durava due ore e un quarto, ci trasferimmo a Roma. E lì devo dire che avemmo un grandissimo successo. Perché all'epoca si rimaneva molto tempo in un teatro. Sì. Non era come adesso che si fa la settimana. Noi abbiamo recitato. Certe sere non lo facevamo lo spettacolo. Certi altri lo facevamo con una persona. Però siccome uscivano queste recensioni, all'epoca non c'erano le pagine locali. C'era la Repubblica nazionale, il Corriere nazionale. Sì sì. Per cui uscivano queste recensioni molto lusinghiere. Eh ha detto no. Per cui poi alla fine noi non c'era più posto per mettere i romani che... Ma poi ci sono venuti a vedere anche i nomi illustri. Moravia, Cesare Zavattini. Dacia Maraini, Italo Moscati, Angelo Maria Ripellino. Vabbè poi ovviamente c'erano, siccome questo teatro che era un teatrino off dell'epoca si chiamava l'Alberico e poi sotto c'era questa grotta praticamente che si chiamava l'Alberchino. Ovviamente adesso non esiste più. Sopra c'erano delle compagnie e giù c'erano degli altri. L'Anonima GR lavorava giù. E su, che so, lavorava Verdone o lavorava Benigni eccetera. Loro venivano sempre giù a vedersi gli spettacoli sempre. E non si perdevano, se ne vedevano più di una replica. Benigni aveva iniziato giù. Benigni aveva iniziato giù. Vabbè, ora non è che possiamo stare a dire anche... Io c'ho la sfortuna di avere una memoria... In quel momento storico risultava un teatrino di punta a Roma. Era l'inizio della seconda metà degli anni 70. Ed erano gli inizi anche per quei grossi calibri che ha citato Dante. Che poi hanno fatto non stop. Ciardo, fermate, ci stanno i consigli per acquisti. Vabbè. Ci parliamo. In quel città, ci vediamo tra poco. Il Ciardatano Il Ciardatano Eccoci qua, bentornati al Ciardatano. Con me l'Anonima GR, Dante, Tiziana, Pinuccio e Nicola. Salutiamo anche gli altri che hanno fatto parte della... Ah, no, no. Io guardo sempre nel monitor. Ducciocelli Carla Traversa Nica Traversa Nole Nica Traversa Vabbè, all'inizio proprio inizio c'era anche la sorella Mezzanna. Ero in tre. I Traversa e mi comandavano loro. Allora, Tiziana A me? Sì, quali sono i pregi e i difetti dei tuoi colleghi? Parenti e amici? Sì Partiamo da Dante Dovrei andare a... Beh, allora, lui lo conosco Va bene Bene, nel senso Sì, perché per il resto è tutto un pregio, guarda Se non fosse per la magrezza È tutto un pregio Uno scrigno di virtù, veramente Un difetto di Dante Beh, dai È pieno di difetti Più uno Vuoi farla a me la tua domanda su Paes Oh, Dante, un pregio e un difetto su Tiziana Non ho detto niente Comunque, sentiamo prima il suo Non ho capito la domanda Un pregio di Tiziana Purtroppo questa domanda accade nel vuoto Perché Che deficiente Se l'è preparata Nostro È un difetto Un difetto? È Che casa è un grande altoparlante Ci grida in continuazione Non è vero Allora, il difetto è le bugie Bugiardo Perché mo sta dicendo già una bugia No, in quanto io, per esempio Tendo a non parlare proprio Allora, venite a casa Mettete una microspia E vi renderete conto Che io non parlo Non parlo Un difetto di Pinuccio 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 Si, si incazza facilmente Specialmente in questi ultimi periodi Ecco, perché prima non era così Lo vedo molto spesso Che brontola Ecco Lui è un brontoluto Perché non vende la cacaca Si aumenta Di conseguenza Allora, prima era uno che rideva molto Faceva ridere Tuttora fa ridere È simpatico Però tende al pessimismo Ecco, invece prima era molto più ottimista Di Nicola non posso dire granché Perché ci siamo rivisti Quest'anno Dopo veramente quasi 30 anni che non ci si frequentava Per cui Vabbè, degli ultimi tempi però Vabbè, lui è Non so se c'hai presente quel personaggio di Verdone Che è tutto preciso Lui è diventato così La macchina deve stare precisamente Tipo Furio, giusto? Tipo Furio Quando parcheggiava C'aveva il chendevo Per vedere quanto Fa quanto chendevo dal marciampiede la ruota Non ti risulta? A noi si tutti Quindi Immagina No Avrei di peggio come difetti Sì, è ovvio Ma noi adesso siamo carini Allora Finuccio Un pregio di Dante No, innanzitutto siamo una Proprio Una cloaca Una cognitiva Un pregio di Dante Ce ne sono tanti quanti i suoi difetti Bravo Tizian parla sempre Ma voi siete cretini Stanga Andiamo a vedere la trasmissione Non dico una parola Andiamo a vedere la trasmissione Contiamo chi ha parlato di più alla fine E va bene E lei ha detto che il contrario Che è l'unica donna Meno male che c'è la registrazione Però i pregi sono talmente tanti Che nemmeno io li so Che nemmeno tu li sai Perché la perdoniamo Però perché lei è così simpatica Nicola Un difetto di Dante Eh Vabbè C'ho assente No Stai pensando No, no, no Perché è così acclarato proprio Il rododentro Dante Grazie Nicola No, sì Questo sì assolutamente è vero Ma perché ero dododentro Mi distruggo la vita Quelle carattere Quelle carattere Quelle carattere Quelle carattere Quelle carattere Gastrite Reflusso Silenzio C'è una telefonata in diretta Conosco Pronto Pronto Ciao Chi sei Ah io non tengo Pronto Ciao Renato Ciao Chi sei Sono Rosa comunque prima voglio salutare tutta la famiglia che state lì anonima GR voglio salutare a Silvia grazie Silvia che ci segue dall'altra parte del vetro a Tiziana che vado a fare più tempo, tua moglie non è mia, allora ci stiamo confondendo Silvia e sua moglie Tiziana anche il marito di Tiziana bravi Silvia il cognato io sono Tiziana e lui è il marito di Tiziana lui invece è il marito di Silvia lui è il cognato di Tiziana una grande famiglia e lui è Ustrunk Rosa mi sa che ci chiama da Trigiano non c'è nessuno che si chiama Mino Pino, Pinuccio vuoi dire da Trigiano io ti saluto simpaticamente Pino, grazie ciao Rosa ci vediamo presto grazie grazie il palco il palco che vi ha fatto più paura in assoluto che avete calcato Torino il teatro il teatro comunale di Torino ma non soltanto a noi perché? la prima e unica volta che perché noi partecipammo a questo gioco dell'improvvisazione dove c'erano tantissimi gruppi italiani e quindi andammo anche noi praticamente il meccanismo era terribile perché loro davano il titolo e tu in due minuti dovevi organizzare e in un minuto dovevi realizzare aspetta c'era una cosa peggiore che c'era anche il tema del pubblico che è peggio perché il pubblico dice per esempio viaggio sulle montagne con un coccodrillo a Prisma e voi dovevate improvvisare sì noi battemmo la la Santella di Napoli sì che era la che era la la vincitrice dell'anno prima comunque ma guarda che stavano gruppi quelli di Grog Ciri no no è un messaggio c'erano quelli di Grog la Santella c'erano c'erano gruppi c'erano gruppi che all'epoca erano molto forti che comunque stavano tutti si può dire a diarrea naturalmente ma tutti c'erano la Santella ma andavano tutti avanti e indietro non è facile improvvisare no ma non è quello è come Petruzzelli che comunque effettivamente anche il Petruzzelli ci ha emozionato recentemente sì però là Petruzzelli sapevi quello che doveva Petruzzelli siamo andati a godere però là sull'improvvisazione giustamente stavate sì ma perché poi c'erano questi tempi c'erano i ritmi proprio veramente andavano tutti poi ovviamente tutti ad improvvisazione a diarrea a diarrea improvvisazione e a culo poi a culo perché poi sì non so se vi ricorda che mi sa chiedere oh perché? oh no sì ah perché si stavano perché avevano anche i collassi nervosi sul palcoscenico addirittura sì ma che c'era una cosa che non valeva la pena farlo fare anche perché poi ti sottoponevi ai festi da lì nacque tutto in Italia tutti facevano concorsi di improvvisazione perché tanto fu ma c'era anche molti giornalisti per cui eppure venne mentre stavamo entrando in una delle serate in quegli anni l'anno prima c'era stato al teatro abeliano una compagnia che si chiamava il Gran Serraglio di Torino e che portarono Bukowski sì qui c'erano donne nude all'abeliano immagino all'abeliano faceva rispetto da pure un'onde e vabbè immagino la signora va a chiedere la raccomandazione una stupidere per questo venne per le nudità venne ci disse ragazzi ma voi siete così bravi perché state facendo questa cosa perché state distruggendo la vita c'è una telefonata pronto 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 chi è pronto ciao chi sei ehi salve sono Pasquale chiamato Abitonto ciao Pasquale volevo salutare te in primis Renato grazie caro poi l'amico Dante in secondis la amica Tiziana ciao però in particolar modo Pinuccio in quartis se mi hai pensato che si avessi scartato proprio mi sentite? dimmi sì sì grazie pronto? dici tutto mi sentite? sì certo vai ecco volevo dire siccome io sono un assiduo seguo molto Telenorba tutte le reti regionali telebari dillo telebari perché non lo spegniamo ecco volevo proporre all'amico Pinuccio un ritorno della sitcom di medici in prima linea vabbè poi pare con l'antenna sud perché non mi sembra voglio dire c'è un messaggio vocale e poi purtroppo dobbiamo chiudere Renato sentiamo il messaggio sentiamo il messaggio siamo venuti con il repertorio preparato buongiorno a tutti buongiorno ho mandato un messaggio ieri su whatsapp mi è stato detto di fare un vocale e volevo dire a te Renato di dire a mio figlio Victor di impegnarsi a scuola perché siamo arrivati agli ultimi giorni di scuola e che mamma non pretende più il 7 ma l'8 ma almeno l'8 ma almeno l'8 quindi Renato ti chiederei la gentilezza di dire a mio figlio di mettersi a studiare guardare meno la tv vogliamo dirlo tutti quanti in corso studia Victor è vero va bene grazie grazie per i messaggi è un messaggio di un quarto d'ora praticamente comunque il tempo a disposizione è terminato no io voglio fare un altro brano allora adesso facciamo un altro brano andiamo col brano noi abbiamo portato un repertorio di 6 brani di 4 pezzi recitati comunque torneranno torneranno ho detto se ne vada va bene appena stabiliamo le prossime date devono tornare assolutamente ci siete? ci siamo? ci siete? ci cos'è ma candè? no no ce ne dobbiamo andare no no fai che cosa? sto portato la chitarra vai è vero questa è portata la chitarra ma che cosa? non se la ricorda nessuno la bella campagnetta facciamo Michele non te la ricordi tu? facciamo un più il Dukan dai un pezzettino no non se la ricorda nessuno vai vai è portato la chitarra Non fai un profumo, ma c'è una fantastica vera faccia La scena di rompere, c'è un po' di uomo, tutte le altre, sempre Ci vediamo domani, vai, continuiamo, che non l'ha segnato Fai radio e tv, pure sopra Facebook, il Giardatano